Nella mattinata odierna, militari della Guardia di Finanza di Torino, in collaborazione con i reparti del Comando Provinciale Napoli territorialmente competenti, stanno dando esecuzione nell'ambito dell'operazione Ferramiù ad un'ordinanza di custodia cautelare messa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di ulteriori sette soggetti, sei in carcere e l'uno ai domiciliari, per le ipotesi di reato di traffico internazionale di rifiuti metallici ed emissione e utilizzo di documenti attestanti e operazioni inesistenti. È in corso di svolgimento altresì il sequestro preventivo di un'azienda operante nel settore del commercio di metalli ferrosi, nonché di beni per oltre 43 milioni di euro, tra cui disponibilità finanziarie, immobili e quote societarie riconducibili agli indagati. Le attività dirette dalla Procura della Repubblica di Torino, direzione distretto l'antimafia, rappresentano lo sviluppo operativo di ulteriori approfondimenti investigativi condutti dai finanziari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria a Torino, successivamente agli arresti eseguiti nel marzo scorso, a carico di 15 soggetti e ai sequestri disposti per oltre 130 milioni di euro, con l'effettuazione di perquisizioni e acquisizioni documentali presso decine di aziende ubicate in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Molise e Campania e coinvolgimento di società con sedi in paesi dell'est Europa. Le indagini hanno così consentito di individuare un'ulteriore società lombarda che predisponeva la copertura documentale contabile dei rifiuti metallici illecitamente reperiti sul territorio nazionale, attestandone falsamente alla regolarità secondo i requisiti richiesti dalla normativa dell'Unione Europea. Successivamente tali rifiuti venivano consegnati a fonderie o altre società commerciali del settore per essere reimmessi nel circuito produttivo. In armonia con la legislazione unionale, infatti, affinché i rottami metallici non siano qualificabili come rifiuto, il produttore deve redigere e trasmettere ad ogni cessione una dichiarazione di conformità al fine di consentire in ogni momento l'individuazione dell'origine del rottame e dunque la tracciabilità dello stesso. La società filtro lombarda si era di fatto interposta nel recente periodo nella filiera imprenditoriale simulando un'effettiva attività di acquisizione intra-UE proprio al fine di fornire un'apparente liceità a ingenti quantitativi di rifiuti metallici. La complessiva azione investigativa ha consentito all'autorità giudiziaria sino ad oggi di disporre 22 misure cautelari personali a sequestri di beni ai fini di confisca per oltre 176 milioni di euro, tra cui due aziende in Piemonte e in Lombardia. L'operazione Ferramiù conferma tangibilmente la costante azione svolta dalla Guardia di Finanza nel contrasto a traffici illeciti, anche attraverso il monitoraggio dei flussi finanziari che costituisce il modello più efficace ed efficiente per individuare e contrastare le attività delle organizzazioni criminali, le quali al fine di trarre un ingiusto profitto inquinano il tessuto economico produttivo, alterano la concorrenza del mercato e non da ultimo danneggiano gli imprenditori onesti e rispettosi delle regole.